Ciao a tutti Allora Questo video Voglio che sia Non in relax Più totale Cioè proprio voglio che sia Un video super delicato Coloso Dove si utilizzano vari strumentini Si sentono nuovi suoni Io divento un po' più presentabile Ma Quando esce un video per esempio Di chi avrà Get ready with me Cioè Adoro Perché è troppo rilassante Cioè almeno per me È super rilassante E vedere la persona che si trucca E se io fosse un maschio Penso che guarderei il video comunque Perché non è un video Tutorial proprio È un ASMR Get ready Ma li adoro Cioè proprio Li adoro Spero che mi sentiate bene E vi dico cosa ho fatto adesso Per Dato che Per registrare questo video Siete sopra la mia make up collection Ve lo faccio vedere Se ci riesco Ok Siete appoggiati sopra Il tavolino Non posso mettere il microfono grande Perché il tavolino è Boh Cioè non è grandissimo Ma mi va bene per il trucco Che devo fare Ma Se ci aggiungo pure il microfono Poi mi tocca Spostarmi Praticamente Perché non Non ce la faccio E quindi Sì vabbè Lasciamo perdere Quindi ho pulito Una vecchia coppa Di mio fratello Che aveva vinto Copro la targhetta Perché Evito E appenderò il microfono Qui Adesso faccio una prova E Vediamo se funziona In modo che Se funziona Io vi appoggio Appena qui sotto Leggermente Sulla coppa E siamo a posto Forse Ho trovato La soluzione L'ho Prensato Così Cioè mi faccio ridere Da sola Tipo Qua Sul bordo Della coppa E appoggiandolo Giù Qui Così Dovreste sentirmi Io lascio qui Tutto il tempo Nel frattempo Vi trucco Faccio le mie cose E non ci dovrebbero Essere problemi Perché se io L'ho vinto qui Potrei farlo Ma Dopo Io comunque Mi muovo Gestico Tanto Vi racconto le cose E il suono Sarebbe disturbato Invece così È lineare Trova Per essere a posto Allora Io comunque Adesso Mi appena inizio A truccarmi Nel mentre Chiacchieriamo Cioè io adoro Questa tipologia Di video Ve lo giuro E Mettetevi Comodi Cercate di Mi trucco molto Quando mi trucco Ho detto Ma si Quindi Faccio un piccolo Controllino audio E iniziamo subito Comunque Anche se Sa maschetto Io comunque Ti invito A guardare Questo video Perché Lo trovo Super Rilassante Questo E con un mi pizzica un sacco perchè ho le labbra un po' questo non si nota molto dal video ma anche delle micro perle fluorescenti si vede anche all'interno del prattolo però nel video si vede meno vedete quel lucidino che c'è ha proprio un effetto lucido come l'è scritta più o meno la stessa cosa e c'è un sacco di prodotto 10 grammi o è stato pochissimo però lo lascio uscire intanto che realizzo il resto del make up l'altro applicare i prodotti labbra all'inizio di quando ci si tocca è strama genialata e ovviamente non l'ho scoperto io però quando lo faccio me ne rendo ancora più conto perchè intanto che tu prepari il viso o la base dai la possibilità al make up diciamo di di realizzarsi con calma intanto intanto le labbra agisce il prodotto capito? quindi a me piace un fatto ok all'inizio vi devo dire un'altra cosa prima di continuare che io non ve l'ho detto anche in altri video questo è il primer questo qui lo applico in tutto il viso io prima di cioè mi vergogno un sacco fare questa pizza struccata infatti per questo che mi sto anche truccando però io sono stata tipo per una settimana a casa adesso non sono ancora uscita non sono andata da nessuna parte ho saltato tutti i miei impegni di studio lavoro patente qualsiasi cosa perché non sono stata bene quindi spero di tirarmi un po' su su una bianca cadavere ma ho anche stamattina di forse un po' meno però gli occhi stra stra confi quindi vi chiedo scusa per per l'aspetto ma cioè è ancora più terrible rispetto al solito perché non sono stata molto bene appunto comunque l'ho applicato adesso un po' maggiormente ambici che tigio per gli altri prodotti appunto poi vi stavo raccontando un'altra cosa ma non ricordo cosa il correttore cibrio non ricordo oggi proviamo questa spugnetta che in realtà l'avevo già provata però la voglio riprovare un'altra volta a vedere come mi trovo allora non ne metterò molto perché non voglio qualcosa di troppo pesante voglio una cosa abbastanza leggera però che riesce un po' a sistemare questa situazione poi tra l'altro non so se lo sapete ma è stra difficile registrare contenuti beauty con la strumentazione video ve lo giuro perché ogni volta ho sempre il terrore di macchiare comunque e quindi ho sempre questo terrore mamma mia ve lo giuro c'è tipo con una persona che che guarda un video non non se ne rende conto o non capisce questa cosa perché dice beh basta che allontano il microfono fai attenzione in realtà è stra difficile firmare filmare scusatemi dei contenuti che diciamo si in India è difficile firmare filmare dei contenuti con cose che si possono sporcare anche tipo quando intanto sfumo con la sognetta anche tipo quando realizzo dei video ricordatevi anche il collo realizzo dei video tipo con la schiuma oppure faccio quei roleplay con come si chiama? anche la schiuma da barba oppure cosa avevo fatto? parrucchieri quindi utilizzo gel per creare le mie schiumette per fare tutti i suoni vi giuro non avete idea di quanto è difficile perché ogni volta ho sempre il terrore e la paura di macchiare tutto ve lo giuro cioè sono sempre tipo oh mio dio adesso cioè mamma mia vedete ne ho obbligato un velo leggero però già un po' si nota la differenza e si nota che c'è un po' di oh perché il viso è uniforme adesso bisogna un attimo scaldare l'incarnato perché sono più bianca dell'armadio cioè capite la gravità però sono nata con la caraccione così perché non ci posso fare nulla e adesso vado ad applicare leggermente un velo di cipria per far sì che i miei catturi questa sera devo andare a fare una guida con l'istruttore in autostrada e al buio di notte quindi ho super paura però ho dormito tanto in modo da essere bello razzilla che almeno cioè sono sono ok magari un po' ebede però con la testa ci sono un pochino vado ad utilizzare questa cipria che vedete che utilizzo molto spesso crea una cipria della stessa linea del primer mi sto trovando bene se non entri a te da dire con un pennello a linguagliato non ne applico molta non esagero ne metto un po' sulla fronte per evitare che la zona addisi lucidi che è quella più delicata nel naso e nel vento poi vi ho sempre detto che si può mettere un velo di cipria nella base occhi per togliere diciamo l'oleosità del correttore in modo che quando andate ad applicare degli ombretti di sopra la palpebra è bella uniforme liscia compatta senza problemi però anche lì diciamo vedete un attimo voi come giustarvi poi prima di andare ad applicare altri prodotti consiglio sempre di fare una leggera passatina di spugnetta perché la spugnetta aiuta a uniformare e a far amalgamare tutti i prodotti tra di loro e poi e poi e poi trattene quindi si sporca ma va a trattenere sporcandosi il prodotto in eccesso si ho gli occhi veramente confissimi ma spero che passi questa cosa nel frattempo comunque pensavo di no ma il prodotto si sta assorbendo bene sulle labbra allora adesso vado ad utilizzare ad applicare il blush e il contour il blush per dare una specie di tocco al mio viso un po' più colorito e il contour per scolpire un po' il viso se non la faccio come vedete è pianta e volevo anche dire un'altra cosa partiamo dal contour non voglio utilizzare la classica ula di benefit ma voglio utilizzare questa questa già da qui perchè tanto che non l'utilizzo e non era male questa qui in mezzo mi sto dicendo che avevo in mente oggi di di vedete com'è bella mi piace un sacco avevo in mente oggi di realizzare un video beauty non ve lo spoilerò perchè è una sorpresa che è tipo una challenge che è abbastanza divertente mi piaceva sempre per guardarla quando eri piccolina sul canale beauty cioè in realtà se la facessero anche adesso la guarderei solo che non la farò più e volevo poi struccarmi nella stessa giornata cosa che non ho mai fatto tipo mi trucco mi strucco mi ritrucco mi strucco è realizzare questo video appunto dopo solo che alla fine ho buttato per un no perchè 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 sono in due momenti diversi due giornate diverse e almeno sono a posto e qua ricordatevi sempre anche delle orecchie delle zone a cui non facciamo caso perchè poi si vede lo stacco anche se sembra di no ok adesso provo a rendere il tutto un po' più leggero sfumando un pochino con la spugnetta che fa amalgamare un po' il prodotto che ridere sembra che mi sono stati schiocchi già si si vede poco in realtà è molto leggero non so neanche se ha fatto il suo effetto però ci ho provato e invece 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 come blush voglio dare un'altra possibilità a questo perchè uso sempre gli altri però alla fine questo comunque era un blush nuovo e non gli ho mai dato tutte le chance e le speranze di cui aveva bisogno è il blush di Shiglam quello che c'ha da una parte da una parte c'ha il suo applicatorino pennellino che però mi sono trovata mi sono trovata mi sono trovata male con questo extra ASMR questo 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 è il blush che figo adesso stiamo venuto così a ascoltarlo grazie grazie sono tipo delle micro setoline tutte attaccate che fanno pennello strano mai visto tra l'altro quando l'avevo provato questo blush non mi aveva fatto particolarmente pazzire per quello volevo riprovarlo e comunque sono tutti prodotti che ho da poco tanti di quelli che vedete che figo che figo gicletta lascia questo qui e quindi vediamo un'altra chance allora lo applico qui c'è anche tipo oh non lo so che li ha ma dovevo manca ridere che ridere è tipo durissimo cioè non è tipo una cosa che mi faccio ridere così quindi è meglio che si fuma un po' uso voglio usare il pennello ma uso la blender così lo faccio amalgamare bene allora dei prodotti vediamo un po' come se fa una macchione oppure oppure se si amalgama bene poi sapete sempre che i prodotti che applicate sulla base in cremo o in polvere fa lo stesso nel momento in cui vi truccate ci sta comunque andare leggermente ad abbondare perché comunque poi nel corso della giornata non è che vi rimane tutto questo effetto tutto questo effetto che vedete adesso va un po' a scemare logicamente e quindi uno si prende avanti dice dato che so già che il prodotto poi si sfuma metto la mascherina vado fuori il trucco si scioglie 300.000 cose la faccio già in anticipo e mi prendo avanti con questa cosa in modo che anche se si toglie un po' di prodotto ci ho messo un po' di più per per diciamo contenire no contenere per risolvere questa cosa cioè in anticipo comunque non è brutto cioè non è non è che mi dispiaggia ma io voglio un effetto più power non so se sia stratificabile proviamo a vedere ma ho paura di no madonna fa malissimo mi stanno venendo via pezzettini di blush si so che è così faccio un pochino ridere io scusa ma è perché non comunque non è brutto il discorso forse si ricorda un po' Rare Beauty come pack simile questo è un mascara auto blush però sono molto simili così faccio ridere vediamo se è un po' stratificabile oppure se si scioglie cioè se si va a sfumare non saprei dai così già già più evidente sì 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 forse va un po' stratificato perché comunque alla prima passata non era scrivente quindi sì questo naso sembra che vabbè lasciamo perdere chiaramente non è proprio cioè un po' non lo so non è bocciato stratificandolo già mi piace di più l'effetto ok comunque un po' lo si nota ok questa è tipo la manceletta per le sopracciglia per fissarle e per farle rimanere così comunque sono top con questa inquadratura perché per adesso mi sembra mi sembra di avervi mostrato molto bene il viso il viso tutto quanto e non ho messo lo specchio davanti perché mi sono guardata lateralmente quindi sono felice di questo traguardo inquadratoriano che ho raggiunto questa è una cera molto morbida si scioglie sembra quasi un vorro mentre l'ho applicata io ho le sopracciglia non le disegno faccio nulla perché perché si però poi qualcuno di noi fa quello che più preferisce più piace la cosa che ho sempre amato è che il corpo è di ciascuno di noi e siamo liberi ed è una cosa che è molto importante per me e in cui credo molto ok adesso sopprino la spazzolina e faccio una forma in cui cerco di disegnarle e faccio tipo le subbrows quindi prima le porto verso l'alto vai via tu aiuto ok devo anche pensare a che look ho a che fare adesso che ci sono queste arrivate le porto verso l'alto e qui sarebbero tipo da riempire però io non lo faccio no qua ok diciamo che questa è meno sfigatella di questa questa ha più buchi si vedono anche però vabbè e adesso le le do la forma che più mi piace diciamo che direzionando anche la direzione del pelo posso tipo fissare bene i peletti e non si vedono più buchi i buchi sono delle zone delle citture le sopracciglia incomplete che tutti hanno e non normalizziamo grazie su sta cosa che non è che perenni non ce li ha o gli arifrasi non ce li tutti hanno i buchi nelle sopracciglia o delle imperfezioni solo che c'è chi le nasconde c'è chi utilizza tante tante scamotage e tante strategie diciamo così ok tipo sono storie si mi chiede forte magari ho letto un'ultima stessa mattina no perché guardate che comunque le sopracciglia non sono semplici per nulla e anche utilizzare questi giorni non è semplicissimo vedete facciamo così lo spero sia carina e adesso scegliamo un po' il make up occhi da fare perché sono un po' indecisa allora vi dico già qual è la mia idea iniziale che ho già cambiato però comunque ve la dico perché se nei prossimi video non ho idea voi ricordatemi che avevo questa idea e bla bla volevo realizzare un'altra volta la palette di Too Faced dove c'ho già realizzato un video andatelo a vedere non perdete però perché è molto interessante perché c'è un sacco di colori veramente pazzeschi volevo utilizzare questo colore questo colore questo 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 insomma avevo un bel po' di idee in testa però oggi non la utilizzo perché oggi ho deciso di utilizzare questa che non ho mai utilizzato che è una matita per gli occhi di pupa di un colore stupendo che voglio assolutamente usare poi useremo adesso vi faccio vedere la palette chiara mi aiuteranno in questo make up la palette di Nabla quindi le utilizziamo tutte e due adesso vi faccio vedere cosa faccio ovviamente con me ci sarà sempre una spugnettina che mi aiuta a pulire tutto allora devo fare attenzione perché non è un make up semplice devo ricordarmi non verrà proprio come ce l'ho in testa ma più o meno allora come prima cosa va aiutami vado con un pennello da sfumatura quindi qui nella piega e prendo un po' di super e train dopo di questi due dalla palette di chiara e vado a fare una specie di curva di profondità chiamola così ok e lo riapplico un po' qua così nella piega giusto per dare un po' di intensità all'occhio e perché questo effetto marroncino piace molto poi come crea un risultato sul sul mio occhio posso dire dalla palette di chiara mi sono trovata molto meglio con gli opachi rispetto che agli shimmer perché gli shimmer si sono tipo un pochino scretolati hanno fatto un po' di pezzettini fallout invece gli opachi zero fallout anche prima ho sbattuto leggermente il pennello così su una salviettina e non c'era neanche un filo di pollore quindi zero adesso invece un po' in tutta la palpebra vado ad applicare questo colore di pupa questo qui strabello perlato deve essere bellissimo insieme a mandarin della cutie palette di nana bla che è questo colore che però non è un arancione ma è un glitter con dei riflessi chiaramente arancioni quindi che riprendono un po' questo marroncino però vedete che è un marroncino molto chiaro e creo una sfumatura perlata cerco di stare un po' lontana dall'attaccatura attaccatura base delle ciglia perché poi voglio utilizzare lei e ho paura di non riuscirci e ho paura che non scriva sopra il prodotto quindi devo fare attenzione quindi vado a prendere un pennello a lingua di gatto e adesso e adesso lo bagno anche un po' così gli ombretti scrivono meglio poi fatemi sapere se vi va e lasciatemi un commento cosa ne pensate di questo video tra l'altro si è assorbito tutto il prodotto labbra vi dico già ok l'ho leggermente leggermente inumidito e bagnato un po' e prendo l'ompletto scemerino qui che c'è ok vediamo cosa viene fuori vedete crea delle per le scienze però mi piace un sacco questo effetto il giuliaturo si vede poco in video però è bellissimo cioè è qualcosa di stupendo si vede comunque la differenza dal video questi glitter scusami dal vivo questi glitter rendono ancora 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 di più e devo dire che questa palette di labbra c'è dei glitter che sono anche belli abbastanza resistenti cioè non sono tipo di una qualità così sono belli validi devo dire sì sì anche qua ok giusto un po' adesso proviamo a vedere come si comporta questo qui che volevo un sacco provarlo farà sicuramente un sacco di polvere ma almeno vediamo un po' come pubblichiamo sopra così crea un bel fascio di luce un sacco questo effetto è abbastanza chiaro devo dire però è molto bello vedete che luce bello bello mi piace ok questo si vede un pochino meno però io lo metto un pochino di più anche nell'angolo interno vedete che si vede giù di più ok ce l'ha arrabbiato il dischetto sono andata a pulire la sfumatura e adesso proviamo ad utilizzare una dita che poi chiaramente se viene troppo intensa la andrò a sfumare leggermente con con un pennello diciamo la sfumatura quindi proviamo ad andare ad applicarla sopra come perfetto si vede poco scrive poco sopra diciamo che non scrive moltissimo sopra l'ombretto però è fatto comunque un pochino si intravega allora vi spiego un attimo che ho fatto perché mi sono un attimo persa e ho avuto un po' di confusione soltanto che diciamo ho avuto un po' di incidenti in percorso allora la matita che vi ho fatto vedere prima è quella che vedete al di sotto dell'occhio ma scrive veramente poco e si vede poco quindi che cosa ho fatto ho preso l'eyeliner viola il classico che ho messo lui anche se però scarico lo devo comprare nuovo nel negozio ma non sono più riuscita ad andare e l'ho messo anche male non so se non ho tante luminosità nella parte di una roccina perché ci sono gli omaretti non so si vede forse qua un po' di più anche nella con l'interno poi ho messo un po' di mascara vabbè ho cercato un po' di sistemare la situation adesso andiamo di gloss della collezione di make up revolution per il make up revolution london per the lion king disney che è bellissimo gloss per completare il look comunque il balsamo idratante di visual che vi ho mostrato all'inizio si è completamente assorbito tutto quanto e però comunque mi piace solo che volevo fare qualcosa di nuovo e invece alla fine ho fatto un make up che ho già fatto però vabbè spero comunque che vi possa piacere perché mi piace molto il contrasto del marroncino brillantinato con il viola in realtà sapete che questo make up è nato un po' come il panettone cioè sapete che il panettone è nato perché è stata fatta una recita sbagliata cioè ecco io ero con la Cleanne avevo fatto un make up ci abbiamo tipo disegnato sopra e da lì è venuto fuori un make up strabello che è questo che vedete adesso che mi piace un botto questo viola mazzisco l'adoro questo per me metterei un altro po' di blush di illuminante ma rimaniamo così che devo vedere comunque l'istruttore no no un bonazzo e no vabbè questo comunque sarebbe un look che porterei veramente un com' ma è veramente bellissimo mi piace un sacco poi la cosa divertente è che a volte tipo vado in bagno e mi ricordo di essermi truccata e dico mazza sono un po' più carina al solito e ne metto giusto un velo questo profuma di tipo di africa non so di africa di frago ecco forse di frutto tropicale ok ecco qua voilà bene bene allora adesso vi faccio vedere il make up il make up terminando con la luce del sole così forse riuscite a vederlo un pochino meglio spero che questo make up vi piaccia a me piace veramente da impazzire quello in kit lo trovo bello diverso al solito al solito mi piacciono molto mi piacciono moltissimo le sfumature il brunetino si vede un sacco vedete il viola il viola all'interno veramente stupendo veramente fatemi sapere cosa ne pensate un bacione ci vediamo un prossimo video ciao a tutti buonanotte ciao ciao ciao